Ora invece ho una nuova rubrica ed è stata curata da Mattia Mariani, 5 anni in comune, insomma Mattia Mariani intervista alcuni sindaci che ci raccontano gli ultimi 5 anni di legislatura, noi oggi cominciamo dal comune di Poviglio e il collega dunque ha intervistato il sindaco, Gian Maria Manghi, vediamo. Sindaco, il bilancio di fine mandato richiama le promesse del 2009, si sente dopo 5 anni di aver portato a compimento quel programma? Ma direi abbastanza, nonostante le condizioni date si siano verificate e rivelate diverse rispetto a quelle che si pensavano allora, la crisi economico-sociale avviatasi tra fine 2008 e inizio 2009, si pensava di poterla affrontare a tempi brevi e in una dimensione molto più contenuta di quella che in realtà è stata. E quindi questo ha avuto un'influenza sullo svolgimento della legislatura tra le premesse, la programmazione e poi quanto si è concretato. Però credo che in linea di massima quanto era stato immaginato nella concezione delle idee di paese, nella metodologia dell'amministrare attraverso la partecipazione in particolare e anche nel risultato di quanto abbiamo realizzato, credo di poter dire che ci possano confermare che esiste una coerenza tra quanto era stato detto e quello che abbiamo fatto. Si dice spesso che il sindaco sia un front office, la prima autorità che i cittadini cercano. Lei è stato un sindaco di palazzo o un sindaco di piazza? Credo molto un sindaco di piazza per caratteristiche personali, umane credo e anche per scelta perché il discredito della politica di questi anni ha generato in me la necessità di essere prossimo alla gente scegliendo proprio la strada e la piazza come luogo di confronto quotidiano con le persone. È stato un rapporto bello, fecondo, vero, credo autentico, quotidiano soprattutto, che è stata la cifra dello stile che ho cercato di assumere in questi anni, interpretando la necessità delle persone di avere vicina l'amministrazione. Questo dal saluto al paese che faccio al mattino andando dinanzi al parcheggio scolastico, da quando l'abbiamo costruito, incontrando le famiglie e i bambini che vanno a scuola, ha un rapporto stretto con le frazioni, territori più marginali dal punto di vista geografico, i quali hanno bisogno di essere frequentati e di essere conosciuti nelle loro implicazioni quotidiane che possono parere di poco conto, ma che lasciano i tratti significativi dell'esistenza di quelle persone. Spesso un sindaco viene giudicato per quello che ha fatto materialmente, dunque si guarda le opere di edilizia, dimenticando molte opere fatte sui servizi e sulla coesione sociale. Per ciò che riguarda la parte edilizia, voi avete puntato soprattutto sulla scuola, è vero? Sì, abbiamo aperto il mandato portando a termine un investimento molto significativo che è stato il raddoppio della Gino Nido Rodari, che era stato avviato nella legislatura precedente ed è stato poi inaugurato nel 2010, quindi a un anno circa dall'avvio del mandato 2.9-2.14. È un'opera che segna per noi la primarietà della scuola nella programmazione. Consideriamo il Nido non più un servizio, ma un'opzione formativa ed educativa in un'evoluzione concettuale di pensiero che ha accompagnato queste strutture in questi anni e quindi il fatto di aver raddoppiato i posti a disposizione e di vantare una percentuale di scolarizzazione sullo 0.3 che è mediamente superiore a quella dei comuni dell'area nord della nostra provincia è per noi un dato di grossa soddisfazione. Quindi siamo partiti da qui e poi abbiamo continuato sulla edilizia scolastica, riqualificando gli spazi dell'istituto comprensivo, della primaria e della secondaria di primo grado eppure della scuola materna con un intervento di alcune decine di migliaia di euro che abbiamo fatto nell'estate scorse. Poi c'è un pezzo di scuola davvero particolare, la Casa del Clown, che richiama tanti ragazzi e che è una cosa particolarissima. Sì, abbiamo raccolto questa esperienza di un po' vigliese, di Agide Cervi, che da insegnante di scuola, oggi diremmo secondaria di primo grado, di scuola media, di educazione fisica, ex campione giovanile di salto con l'asta, ha maturato questa passione in questa parte della sua vita esplicitando davvero un'attività attraverso la sua collezione e la sua capacità di animazione particolare. Abbiamo inteso valorizzare questa esperienza locale che ha valicato i confini povigliesi, ha assunto dimensioni che non ho paura di finire nazionali, dando uno spazio ufficiale alla sua collezione e al suo agire all'interno del centro culturale, spazio che appunto è denominato Casa del Clown, che in questi primi mesi di attività, l'abbiamo inaugurata a ottobre del 2013, sta raccogliendo l'adesione di molte scolaresche reggiane e non solo, in un progressivo sviluppo di attenzione e di ingresso di persone, in particolare studenti, che era la cosa che ci interessava di più, che davvero ci fa avere una particolarità, insomma, che diventa anche un tratto identitario dell'offerta complessiva del centro culturale nostro. Gli archivi delle TV sono pieni di immagini tragiche, di incidenti accaduti in via Zappellazzo. Ora sono state portate migliorie. Come stanno le cose? Abbiamo realizzato un intervento di messa in sicurezza di questo incrocio a raso, si dice in gergo, perché ricalca l'impostazione centuriale del nostro territorio con le strade che si incrociano in modo perpendicolare e l'abbiamo realizzato in compartecipazione a questo intervento con Castelnuovo Sotto, perché via Fontanese e Zappellazzo sono a confine tra i due comuni e questo intervento di messa in sicurezza lo ritengo una delle principali azioni svolte durante il mandato, perché da allora, crocio le dita, sinistri mortali non se ne sono più verificati. Quindi il raddoppio dei dossi dissuasori, i corpi illuminanti con dimensioni particolarmente rilevanti che sono stati installati, hanno generato, credo, un effetto dissuasivo complessivo rispetto al grosso numero che negli anni si è registrato di incidenti mortali in quel luogo, tant'è che quello è stato tristemente denominato, era tristemente denominato come l'incrocio della morte. Oggi credo non lo sia più, speriamo che continui a non esserlo, di certo è stato un intervento decisivo per la sicurezza stradale. Nelle 2009 si parlava in campagna elettorale soprattutto di fisco e sicurezza. Per i povigliesi la pressione fiscale in questi cinque anni è aumentata? Abbiamo cercato dentro la fluttuazione dell'imposizione centralista dello Stato che non riconosce l'autonomia degli enti locali, che ha cambiato sigle diverse volte dalla casa ai rifiuti, di contenere al massimo gli aumenti a fronte anche purtroppo dei tagli che hanno corrisposto alla finanza pubblica nello stesso periodo, caratterizzandoci per una scelta di imposizione progressiva. Ad esempio sull'addizionale all'IRPEF abbiamo superato l'applicazione orizzontale che si faceva uguale a tutti a prescindere con una curvatura in base alle fasce dei sei di appartenenza, caricando ovviamente su coloro che sono più ambienti rispetto agli altri. Quindi abbiamo cercato di redistribuire in questi anni il carico aumentato facendolo pesare su chi evidentemente ha più le possibilità di reggerlo. È un quinquennio difficile perché è un quinquennio in cui lo Stato ha cresciuto la dimensione centralista come dicevo prima e ha violato credo la dimensione delle autonomie locali. Quindi per mantenere diciamo così quello che era la piattaforma della comunità solidale, dei servizi e delle opportunità formative ci siamo avvalsi diciamo di questa scelta politica che si è concretata in particolare l'anno scorso che è stato l'anno più difficile per la chiusura dei bilanci della progressività come elemento cardine della fiscalità. Lei è un esponente di spicco del Partito Democratico Provinciale. A chi dice che ha tolto tempo a poviglio per dedicarsi al partito lei cosa risponde? Che non è nei fatti questa cosa. Io credo di aver vissuto questo mandato compresi i due mesi di campagna per le primarie della segreteria del partito al quale appartengo pancia a terra senza risparmiare tempo e energie per il paese nel quale sono nato e vivo da sempre. È stata una parentesi, una parentesi nella quale mi è stato chiesto da tante persone di fare una corsa che ho fatto credo anche con un buon risultato e tutto qua. Il resto credo che stia nel lavoro che dal primo all'ultimo giorno di questo mandato da questo punto di vista insomma sono molto tranquillo sereno nella coscienza. I risultati li giudicheranno i cittadini ma l'impegno di certo non è mancato. Altro tema molto dibattuto è quello dell'immigrazione. A poviglio cosa è stato fatto per favorire l'integrazione? Abbiamo cercato di investire molto anche qui in campo scolastico, sulle cosiddette seconde generazioni, cioè su coloro che sono nati e cresciuti qua pur appartenendo a famiglie che provengono da altri luoghi del globo. Cercando di sopportare la scuola soprattutto in un'opera primaria che è quella dell'alfabetizzazione. Notorialmente lo Stato ha svanito qualsiasi intervento con quelle figure denominate speciali in un'altra stagione che si occupavano dell'alfabetizzazione di chi arrivava in corso d'anno. Questo compito è stato assunto in modo positivamente improprio dagli enti locali che si fanno carico di sorogare quello che il Ministero preposto non fa. Quindi la prima condizione che abbiamo cercato di porre in campo è quella dell'alfabetizzazione come chiave di accesso alla possibilità di relazionarsi, dialogare tra persone che altrimenti sarebbe preclusa o comunque sarebbe enormemente rallentata e anche alienante per le persone che poi la subirebbero. Lo abbiamo fatto sia nel campo delle seconde generazioni che si affacciano sulla scuola, sia in età leggermente superiori, quelle che sono fuori dall'età scolare prima, perché arrivano anche ragazzi di 16, 18, 20 anni. Qui abbiamo anche un punto legato alla direzione scolastica di Luzzara, CTP, i centri territoriali permanenti che raccoglie diverse decine di persone, quindi abbiamo cercato di combinare in questo modo il primo livello che è quello dell'alfabetizzazione. Poi ci siamo avvalsi anche delle figure dei mediatori che soprattutto nei confronti del genere femminile si sono rivelate preziosi per effettuare quelle azioni di integrazione sulla quotidianità che rispetto a culture che hanno consuetudini e costumi diversi dalle nostre si sarebbero trovate in difficoltà. Quindi diversi corsi a sfondo anche culturale sono stati organizzati per consentire a queste persone di sere di casa e di stare in una dinamica sociale di inclusione. Non è un percorso assolutamente concluso, siamo ancora credo in una dimensione comunitaria multiculturale che non significa interculturale e sulla quale bisogna lavorare molto per evitare la separazione che può essere l'esito di deriva negativo nel momento in cui non ti occupi dovutamente di azioni di integrazione vera. Com'è stato il suo rapporto con le opposizioni in questi cinque anni? Ma io lo giudico positivo. Noi abbiamo due gruppi di minoranza, un gruppo politico di espressione politica e un gruppo di espressione civica in consiglio comunale oggi. Il rapporto è stato di confronto e costruttivo. Poi ognuno ha espresso le posizioni che ha creduto. Credo che se andassimo a fare una statistica delle delibere di consiglio è largamente superiore alla parte delle delibere che sono passate all'unanimità rispetto a quelle che hanno avuto voti di dissenso, ma soprattutto quello che mi interessava era garantire un clima di dibattito democratico possibile all'interno del consiglio comunale perché considero le minoranze come parte integrante come veniva detto del governo. Abbiamo accolti in alcune occasioni mozioni o proposte di emendamento che sono provenute dalle minoranze senza pregiudizie, senza preclusioni perché se si tiene un clima possibile di dialogo credo che si possa in qualsiasi momento divenire anche ad accogliere convincimenti che magari non si sono maturati come maggioranza o che sono al termine di una dialettica diciamo di confronto che era partita con altri presupposti. Da ultimo mi dice chi è per lei un sindaco? Una persona che vuole bene la propria comunità e che fa di tutto perché la comunità la quale appartiene possa attraverso il suo lavoro dei suoi collaboratori crescere nel tempo che gli ha riservato. Grazie a tutti.